50 leggi, solo due osservate rispetto al 2015, 45 leggi, 7 osservate. Mi pare sulla qualità legislativa oramai ci siamo, bisogna sempre migliorare. Un testo unico approvato all'esame dell'Aggiunta, sul commercio, l'altro testo unico sull'urbanistica è in fase terminale nel lavoro bipartisan tra aspetti del Consiglio e dell'Aggiunta regionale. Siamo in ritardo di un testo unico, ma permettetemi, gli altri anni i testi unici non se ne parlava nemmeno, quindi è un ottimo risultato. Ci sono delle criticità che abbiamo evidenziato e che riguardano soprattutto il dibattito in aula, il miglioramento del regolamento per accorciare i tempi e per non far perdere tempo a cittadini abruzzesi nell'approvazione delle leggi. Sull'aspetto del risparmio economico dell'Ente Regione c'è un abbassamento dal 2009 ad oggi di circa 9 milioni di euro. Nell'ultimo periodo c'è stata una forte razionalizzazione dove c'è stata una contrazione, ma per volontà di tutti i consiglieri regionali dell'Ufficio di Presidenza, dove c'è una riduzione delle spese di rappresentanza, c'è una riduzione delle spese del personale, naturalmente ci sono spese inferiori per quanto riguarda i vitalizi. Io immagino che all'interno dell'Ufficio di Presidenza debbano partecipare le rappresentanze anche delle opposizioni, non solo della maggioranza, se le opposizioni sono due debbano essere presenti tutte e due le opposizioni. Quindi è una questione alla quale bisogna porre rimedio, naturalmente è una decisione che non può prendere in autonomia il Presidente del Consiglio dell'Ufficio di Presidenza, questa è lasciata al dibattito dei gruppi politici.